amici di motosport.com ciao a tutti è sabato siamo all'appuntamento con antonio ghini e parliamo ovviamente del candido la nostra rubrica la nostra chiacchierata settimanale sul mondo delle corse ma più largo raggio anche col mondo dell'automotive se non delle moto ciao antonio ciao a tutti allora abbiamo un sette volte campione del mondo questa cosa suona strana a tantissimi perché sono molti quelli che non accettano il fatto che Lewis Hamilton non sia un usurpatore di quello che è il ruolo di Michael Schumacher di che cosa vogliamo parlare intanto come si dice i record sono fatti per essere battuti se no ci addormenteremmo su dei record antichi penseremmo al passato quindi non dobbiamo sgomentarci che che in una nuova epoca perché poi l'epoca schumacher e l'epoca attuale sono in definitiva quasi una generazione non una intera ma sono passati degli anni diciamo dal 2000 al 2020 da quel 2000 è stata la prima il primo mondiale di schumacher ma poi anche Hamilton il suo primo mondiale non l'ha vinto quest'anno però diciamo che c'è ma io volevo mi sono fatto un goffo disegno per parlare di di Hamilton è bello con la stella della Mercedes la stella della Mercedes allora ho messo tre temi che vorrei trattare uno la sua sensibilità il secondo la sua identità e il terzo la sua professionalità che tra l'altro abbiamo visto ieri su quella bella intervista pubblicata da motorsport.com sulla quale c'è però da dire anche molto di più rispetto a quello che lui dice perché si può leggere anche oltre quell'intervista allora la prima cosa dicevo la ecco non devo cambiare l'ordine la sensibilità credo che tutti coloro che hanno visto il gran premio domenica e sciagurato è chi non lo ha visto perché per me è il più bel gran premio che ho visto nella vita ed ho visti tanti questo momento di incontro di Vettel con Hamilton eh di Vettel che si si china verso l'abitacolo i due si stringono il braccio la mano in un modo che dà un messaggio mi ha ricordato un po' come tipo di densità del momento Gasly seduto sul podio di Monza da solo cioè sono quei momenti in cui tu vai oltre ciò che vedi e capisci ciò che provano che è una cosa bellissima e rara anche perché i piloti sono costretti a essere un po' dei robot nella comunicazione non perché lo vogliano essere perché li obbligano i team ed Hamilton per fortuna questo sfugge abbastanza ma in quel momento c'è stata intanto per al di là dell'emozione profonda di di Hamilton di eh sentire cosa significa in termini di importanza ma anche di responsabilità di scelte future essere sette volte campioni del mondo ma dall'altra anche dalla parte di Vettel che come tu sai io ho sempre valutato in modo importante perché per me Vettel è un pilota straordinario che soffre solo della sua fragilità emotiva ma dal punto di vista della guida è straordinario e in quel momento Vettel si è scaricato delle tensioni e delle paure che gli avevano fatto avversari come Hamilton ma anche come Verstappen in passato che lo portavano ad eccedere ecco in quel momento c'è stato un incontro di umanità per due emozioni diverse di un Vettel che ha in un certo senso ritrovato la fiducia in se stesso con un podio che dopo un anno che avrebbe ucciso un toro dal punto di vista della della devastazione dei risultati dei piazza delle non qualifiche eccetera eccetera tornare sul podio certamente per lui è molto motivante molto importante ma soprattutto per me ha scaricato come quando uno svuota il computer che cancella il cestino one via lui lì ha cancellato il cestino di tutto quello che è stato in qualche modo fuori dal suo controllo negli anni della sua carriera è stato un momento bellissimo dal punto di vista di di Hamilton della sua sensibilità a me piace il fatto che Hamilton sappia guardare al mondo cioè non sia un pilota prigioniero della formula 1 Schumacher era prigioniero della formula 1 lui viveva solo di formula 1 lauda uguale cioè che considerano per la massima concentrazione la massima ambizione che il mondo sia lì tra il paddo che la pista la pista il paddo che la squadra ha questa apertura questo messaggio di dire io ce l'ho fatta ce la potete fare anche voi è un momento difficile guardiamoci attorno tante persone stanno soffrendo tutti in una maniera o nell'altra stiamo soffrendo e il fatto che lui in quel momento pensi agli altri pensi ai ragazzi che ce l'hanno fatta perché oltretutto lui non è nato ricco lui non ha fatto questa carriera come figlio di papà quindi è proprio la dimostrazione che gli è rimasto dentro quello che è il valore della vita che va oltre il valore delle cose quindi io credo che questa sensibilità sia per lui al di là del fatto che gli piaccia la musica che va dalle sfilate di moda che faccia le cose da ragazzo che è normale io mi ricordo io l'ho incontrato a canna in un supermercato come una persona normale cioè lui e non è uno che va che vengono super blind cioè è normale bellissimo questa è una cosa veramente straordinaria secco in un supermercato monopri cioè di quelli dove vanno veramente tu non è era da hermes che allora era da hermes no bene due l'altra cosa che mi colpisce e qui io vorrei che fossimo tutti molto equilibrati nel valutare quello che sto per dire è la sua capacità oppure la giro diversa pensando a lui noi non pensiamo che lui è nero prova a riflettere tu vedi Hamilton non lo vedi nero è un pilota come gli altri che è un uomo normale cosa vuol dire questo vuol dire che lui ci ha fatto superare lo stereotipo del colore della pelle e lo ha fatto come lo ha fatto con quel concetto che è che è emerso quando sono finito l'epoca se pensiamo se pensiamo alla schiavitù che è iniziata nel 1500 e che è continuata con la colonizzazione fino dopo la guerra dopo la guerra nel 1945 e 46 fu sartre a creare un termine che è la negritudine che la negritudine che è stato preso da molti intellettuali di colore da molte che è il fatto di avere l'orgoglio di trovare quella in se stessi di trovare quella che sono le proprie origini le proprie radice la propria autonomia culturale e di comunicazione vediamo lui come si tratta i capelli come si mette orpelli brillanti nel naso nelle orecchie quello è un modo per riproporre in modo in maniera contemporanea quella che è la tradizione di un popolo che ha sempre avuto nel rapporto con la natura e dio sa quanto oggi per noi è importante il rapporto e loro lo hanno avuto profondo una relazione che era anche una relazione dal punto di vista corporale di come ci si presentava e così via bene lui avendo questo abito che vediamo tutti riesce a non essere identificato come uno diverso e questo è straordinario cioè se noi ci pensiamo il fatto che lui sia nero non esiste per lui per noi lui e bottas uno di origine di colore l'altro finnico sono uguali sono uguali allora e questo è un'altra cosa per me lui che abbia sia riuscito a far diventare nere le mercedes in questa stagione che porti avanti un messaggio che non è un messaggio di revanchismo ma è un messaggio di ricerca di capire che noi non è un messaggio di capire che noi non dobbiamo cadere stupidamente negli stereotipi di un'immagine di un colore tu vedi uno vestito male dici quello è un poverazzo tu vedi uno di colore di quella pelle nera dici quello è diverso no siamo tutti uguali ciascuno di noi ha una propria identità un proprio dei propri valori una propria dignità e allora lui sta facendo questo lavoro magnifico di riportare come esempio alla assoluta parità tra radicati purtroppo e storici stereotipi che dobbiamo e stiamo superando quindi questo è un altro punto che mi piaceva sottolineare di lui questa capacità di interpretare il suo ruolo di portatore di un messaggio e di simbolo la terza cosa che mi piace molto di lui è l'intervista di motorsport.com da leggere lo dice chiaramente è il desiderio che ha di essere più parte della squadra ma a mio avviso va anche oltre questo e cioè noi ricordiamo tutti le sue scaramuzze alla radio fermi di box no non mi fermo non cambio le gomme eccetera cioè lui quando guida decide e abbiamo visto come è stato abile lui e Perez perché adesso non dimentichiamo che Perez ha fatto una grande gara domenica domenica grande gara riuscire a gestire tra lui e Stroll c'è stato un abisso nel senso che l'esperienza la sensibilità la percezione che avresti potuto farcela hanno portato ecco come lui ha saputo gestire anche non troppo spettacolarmente si andava a cercare un po' il bagnato ma lui sapeva che poteva arrivare in fondo con quelle gomme ha capito che poteva che poteva arrivare in fondo con quelle gomme quindi è un uomo che sta dando alla squadra e la squadra ha capito molto bene grazie anche a questo fatto che si sia consolidato il team cioè anni di lavoro insieme è prezioso perché poi si cementifica cioè si è tutti insieme la sua gioia mondiale era la gioia di tutti è sempre così ma lì ancora di più direi e allora a me è venuto in mente perché parliamo spesso della cosiddetto conflitto Callenius-Wolf Toto-Wolf sarà vero non sarà vero sembra non sembra non firmano firmano si trovano eccetera però se a livello di CEO della Mercedes e di Toto-Wolf si riesce a trovare ecco dobbiamo tener conto di un fatto per me si parlava di rivalità loro sono quasi coetanei il baffone come lo chiami tu l'ex presidente era un uomo a fine carriera paterno cioè il rapporto tra Toto-Wolf 48-49 anni e il presidente era un rapporto quasi filiale bravo questo giovane un po' maturo che ha tanti successi hanno tre anni di differenza essere quasi coetanei porta naturalmente ad una maggiore rivalità è umano cioè tu trovi il tuo avversario è quello più vicino a te se loro riescono a superare perché è reciproco per me questo sì sì lì hanno perso tutti e due un pochino il filo di ciò che invece dovrebbe legarli e Hamilton in questo senso li può legare possono capire che la Mercedes dalla presenza di due uomini come Hamilton e come Wolf potrebbe portare nella sua immagine qualcosa che gli altri costruttori tedeschi che essendo tedeschi sono algili e precisi Audi BMW sono dei brand tu compri un brand hai una macchina perfetta tutto a posto la Mercedes che ci mette la faccia nelle corse ha dei testimonial persone che la rappresentano e i volti di queste persone sono quelli di Hamilton sono quelli di Toto e sono persone che possono portare messaggi raccontare storie oggi si parla tanto di storytelling è quello che stiamo facendo noi qua le persone parlano ci si interagisce si dice eccetera eccetera in questo modo il ruolo che potrebbe avere Hamilton per me va oltre quello che è la relazione con la squadra ma potrebbe diventare un ruolo che va anche nella direzione dell'azienda nel suo insieme e dei prodotti commerciali che l'azienda quello che si chiama in modo volgare l'ambasciatore del marchio ma vedi gli ambasciatori dei marchi ci sono sempre stati prendi uno lo paghi e lui ti guarda l'interpretazione attiva dell'essere veramente l'ambasciatore del marchio cioè chi contribuisce casomai alla transizione elettrica in un momento in cui il mercato non è ancora maturo o altre cose ma prendiamo allora i due miti della formula 1 quello consolidato che è il mito della Ferrari che è un mito che nasce proprio col concetto di mito perché i miti fanno parte dei ricordi della leggenda di qualcosa che viene da lontano per cui la Ferrari è nata con Enzo, è nata con il suo cavallino è nata con delle gesta che erano delle geste di una certa epoca e attorno alla Ferrari, al mito della Ferrari si è creato tutto un rituale che è quello del grande cuore sulle tribune delle bandiere, del colore, dell'entusiasmo ci sono degli adepti che sono i tifosi che tengono vivo questo mito attraverso una loro passione che è una passione emotiva la Ferrari suscita un'emozione che è un'emozione irrazionale perché è legata al mito come succede con le religioni le religioni ti coinvolgono non ragioni o non ti permettono di ragionare ti danno i dogmi però sei portato a seguirle in questo modo quindi il rituale che c'è attorno a un brand come Ferrari ne garantisce la continuità del mito i miti sono molto delicati perché così come si formano si creano e si consolidano allo stesso tempo possono sciogliersi e crollare noi possiamo andare prendiamo l'orologio Swatch c'è stato un momento che noi ah lo Swatch il mito dello Swatch e adesso sì uno può comprarsi uno Swatch per carità carini, ben fatti, intelligenti ma non sono più un mito allora non posso paragonare la Ferrari allo Swatch ma per dire all'occhio perché la fortunata circostanza che ci ha riportati la Ferrari al terzo e al quarto posto in Turchia è stata una scintilla che aiuta a tenere vivo un mito che altrimenti rischierebbe di perdere la sua energia ed è quello che a Maranello devono capire che a Maranello l'irrazionalità passionale del rito della Ferrari deve essere alimentata assolutamente i tifosi sono fondamentali le gesta delle persone Ferrari il modo in cui le persone Ferrari si presentano vincenti o onorevolmente sconfitti fa sì che il rito il gesto di Vettel si inserisce con un valore simbolico molto alto a questo punto il gesto di Vettel sicuramente anche se adesso Vettel lo vediamo già un po' vestito di verde più che di rosso però diciamo vedere le Ferrari protagonista è stata una grande emozione ce l'eravamo quasi dimenticata ecco dall'altra parte se il mito della Ferrari è il mito della storia della leggenda del ricordo dell'emotività del non ragionamento la Mercedes potrebbe avere e qui riprendo il discorso che ho interrotto volutamente prima potrebbe avere invece in Hamilton in Wolf nelle persone che stanno vivendo il progetto del futuro dell'automobile perché noi stiamo affacciandoci al futuro dell'automobile per certi aspetti in alcuni casi mi ha fatto anche dei passi troppo lunghi ma la nuova automobile e soprattutto i nuovi brand dell'automobile dovranno essere condivisi in termini di un mito che non è un mito irrazionale ma un mito razionale un mito che segue quelle che sono le richieste che ci vengono dal mondo nel quale stiamo dobbiamo inquinare meno dobbiamo essere più rispettosi dobbiamo essere più partecipativi tutto questo con un personaggio come Hamilton che arrivasse ad andare oltre il limite della squadra ma a diffondere questa sua capacità di comunicare insieme a Toto Wolf insieme ad altri che la Mercedes non è un marchio algido tedesco ma è un marchio caldo che ha la passione oltre all'eccellenza beh questo darebbe a Mercedes certamente un distacco netto rispetto ai concorrenti e questo è un aspetto bello cioè io credo che questa sua volontà io so che tu sei un po' preoccupato del fatto che non firmano il contratto perché e abbiano siano andati fino a dopo a Abu Dhabi e invece credo che sia una buona cosa perché se davvero si trovassero sereni felici senza pressione a parlare liberamente potrebbero invitare anche noi due a parlare liberamente di quello che può rappresentare per la Mercedes questo ciclo di vittorie che allora a quel punto non ha più senso dire la Mercedes sta o vabli o bla eccetera no diventa un modo di comunicare competente coerente con gli obiettivi dell'eccellenza e attualizzato da regolamenti che noi ci auguriamo anche perché ne parliamo sempre che sappiano interpretare quelle che sono le esigenze future del mondo nel quale viviamo quello è fondamentale perché se no crolla tutto ecco la mia predica l'ho fatta no io ho solo il timore che in realtà Callenius che è molto più pragmatico rispetto a quello che fa vedere eppure essendo svedese ha proprio quella che tu dici la visione algida dei tedeschi queste lunghe attese gli facciano passare la voglia ecco io temo solo quello perché uno che ha vinto come ha vinto questo settimo titolo mondiale non è minimamente da mettere in discussione assolutamente io qualche timore non te lo nascondo ce l'ho più per il dissidio aperto con Toto di quanto non sia la mancata firma di Lewis su questo ti seguo ciecamente e mi sembra che il messaggio che Lewis manda appunto quello di entrare in un ruolo diverso contribuire al marchio non solo per quello che rappresenta in quanto pilota che guida ma anche per quello che è capace di comunicare lo condivido al 100% non so cosa ci sia che non gira negli ingranaggi nel rapporto fra Toto e Callegno lì sono sono stupito perché ad esempio Toto quando gli hanno chiesto proprio in Turchia ma tu sei azionista della Ston Martin e poi dopo sei la rappresentanza sportiva del marchio Mercedes c'è qualcosa che non quadra e lui ha risposto ma io ho fatto solo un investimento in ordine finanziario punto e allora ha aggiunto e posso dire che la Mercedes è anche al momento il maggiore azionista di casa Aston Martin ecco questo è tutto vero se non che mi sono un attimo informato e a me risulta giusto per aggiungerci una chicca che Aston Martin non è che ha comprato le quote non si è vista pagare dei motori e quindi si è fatta risarcire con delle quote cercando di sostenere in piedi di questo marchio che non deve saltare per aria nel momento cruciale visto che sta per entrare nel mondo della Formula 1 dividerà la CFT Car proprio col marchio Mercedes e anche qui troviamo un'analogia un avvicinamento di marchi che sono forse complementari di un marchio che sta preparando un SUV esattamente come ha fatto Lamborghini e quindi ambirà ad avere numeri importanti che certamente lo terranno in piedi infatti io volevo domandarti cosa pensi di questa idea della CFT Car e del Medical Car che è diviso tra una metà gare Mercedes e metà gare Aston Martin non è banale come cosa io non l'avrei immaginata fatta con Jeep piuttosto che con un altro marchio che non fosse che non fosse un marchio che vuol dire qualcosa di in più che un marchio evidentemente per dividere il letto lì dividono il letto c'è il bel lettone della Formula 1 e la Mercedes va a dormire con 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 Aston Martin non è una cosa di hai ragione c'è anche questa voglia della Formula 1 di dare un senso che entra un nuovo marchio in Formula 1 e quindi probabilmente gli vuole riconoscere una visibilità esattamente come Stroll ha tutta l'intenzione di rilanciare il marchio che ha una visione molto british nel ricordo di tutti ma che ha bisogno di rinnovarsi e quindi tutti i discorsi che tu hai fatto sul valore di un marchio li troviamo poi racchiusi in un'operazione credo molto intelligente ma sai ne abbiamo parlato credo la scorsa settimana e cioè mentre BMW ha Rolls Royce mentre Audi ha Bentley e altri marchi Lamborghini piuttosto che Porsche eccetera e Mercedes è Mercedes con AMG ma è Mercedes è vero può darsi che come l'hai detta tu sembra che abbiamo detto se non avete i soldi dacci le azioni può anche darsi invece che sia una forma di aggriglimento dicendo noi lavoriamo insieme e sicuramente collaboriamo collaboriamo d'accordo vediamo i motori intanto acquisiamo delle quote eccetera ma che ci sia per me che la Formula 1 possa accettare io non credo che l'Aston Martin possa pagare somme importanti per mettere lì le macchine io credo che sia più un messaggio di una strategia di Mercedes di volersi creare una nicchia complementare che sia competitiva con Bentley con Lamborghini con quei marchi di nicchia che la Mercedes con il suo glorioso però fatalmente non può accedere perché fa macchine di ogni categoria mentre i marchi di nicchia sono là in cima e sono di nicchia quindi io lo vedo più come un'operazione rassicurante per Aston Martin perché se uno guarda i conti di Aston Martin beh quelli soprattutto dopo un anno così non sono certo floridi se guarda invece è là il disegno che c'è per Aston Martin è un disegno così ambizioso che non credo che Stroll col 3,7% credo che abbia di quote di Aston Martin anche se ha una delega alla guida possa raggiungere perché l'azionariato Aston Martin è molto disperso e infatti Mercedes è l'azionista di riferimento col 20% oggi in questo momento direi proprio di sì ah sì io guardavo i dati l'altro giorno quindi io spiro che questa operazione Aston Martin abbia una visione ma non è neanche un caso tutto sommato che abbiano preso un pilota tedesco cioè Perez adesso il Perez di questa stagione rispetto al Vettel di questa stagione adesso poi non so i corsi no anzi Perez ha anche lo sponsor cioè il fatto che abbiano scelto un pilota tedesco sarà casuale sì ma forse no ecco cioè io credo che sia un processo virtuoso questo di Aston Martin ma lo è sicuramente caro Antonio anche perché se vogliamo allargare la riflessione Aston Martin in Formula 1 c'è già con la Red Bull ma non appare altro che con una scritta cioè nessuno se ne rende conto è come l'Alfa Romeo non serve a niente quella roba lì a niente ha prodotto la collaborazione una hypercar meravigliosa questo sì però non ha non ha aperto un alcunché che non sia la scritta su una lettone esatto tant'è che nessuno ci sta più facendo caso cioè quando si parla di Aston Martin si pensa già molto più facilmente alla Racing Point eppure sulla Red Bull la scritta e il marchio appaiono regolarmente sì è anche molto grande questo è anche il valore di quello che rappresenta oggi cioè lo zero certo ma questo è bello per la Formula 1 ho avuto l'opportunità di parlare con Stefano Domenicali l'altro giorno che lascerà se ho ben capito anzi credo di aver capito perfettamente alla fine di questo mese e tra l'altro torna Winkelmann che è una cosa abbastanza inusuale che una persona che è stata con successo al vertice per tanti anni e va in un altro brand che è Bugatti dove fa un bel lavoro che torni mantenendo la responsabilità dei due brand beh anche questo è interessante dal punto di vista di vedere come si sta muovendo anche Audi nei confronti di marchi di nicchia per i quali ogni ogni grande gruppo deve riuscire a capire se hanno un futuro e quale futuro se il loro futuro sarà sempre quello del passato o ci potrà essere un futuro del futuro o meglio ancora io mi auguro un futuro dell'interpretazione intelligente del futuro che vuol dire non tradire il passato io ci aggiungerei un aspetto nella scelta di Winkelmann che è molto lucida io non lo leggo solo come un ritorno di un bravo manager io ci vedo anche una possibilità che tanto la Lamborghini che controlla anche la Ducati possono eventualmente essere messi in vendita in un momento in cui il gruppo Volkswagen ha bisogno di realizzare per tutto quello che sappiamo che c'è dietro e avere secondo me un marchio premium come la Lamborghini senza l'uomo che la conduce e che la conosca sarebbe forse una situazione non ideale per mettere sul mercato un nome importante come Lamborghini l'idea che rientri Winkelmann che conosce tutti che praticamente è come se ritornassi a casa non ha bisogno di sei mesi per capire come funzionano le dinamiche come andrà il mercato quali sono le opportunità conosce esattamente dall'A alla Z tutto quanto e secondo me questo potrebbe dare una grande stabilità in quella che è la proiezione che tu stavi accennando qualunque essa sia beh lui torna ritrova il suo ufficio ritrova ritrova Liana la sua segretaria che quindi lui veramente è come se fosse uscito ieri torna esatto sì ecco io devo dire non avrei mai potuto fare giornalista perché tu come giornalista riesci sempre a pensare una cosa in più di me e l'idea che questa scelta possa essere volta ad un obiettivo di vendita non mi è venuta e non mi era venuta anche perché Lamborghini in questo momento è una bella macchina di soldi ma anche la Ducati perché la Ducati è inglobata in Lamborghini e entrambe fanno parte del gruppo Audi quindi ha maggior ragione perché anche la Ducati sta facendo numeri eccellenti quindi sì ma comunque vedremo cosa succederà però io sono passato dal Lamborghini per dire che ho parlato con Stefano Domenicali il quale ha e questo è molto bello una carica di entusiasmo per questo suo nuovo ruolo per la Formula 1 che di positività era entusiasta per la gara di domenica per come la Formula 1 è e sono certo che prendendo il testimone di un programma che addirittura adesso ipotizza 24 Gran Premi in un anno saprà però certamente riportare la Formula 1 usciti da questo pantanaccio in cui siamo al suo ruolo che è un ruolo che è un ruolo inossidabile inossidabile si tratta solo di gestirlo ecco quando tu dici 24 gare è interessante perché Carrey prima di prendere le valigie e chiudere la porta in uscita ha anche detto che si starebbe pensando a un calendario con delle rotazioni per cui i gemi le cose che sono state seminate con Mugello Imola Portimau piuttosto che il Nürburgring stanno generando qualche cosa non sono porte che rimangono chiuse magari non saranno e c'è da sperarlo tu dici che ci sarà una possibilità ma abbiamo avuto l'esperienza diretta quando c'era in Germania l'alternanza tra Nürburgring e Hockenheim quindi perché no anzi io credo che sia molto bello che gli autodromi possano ruotare perché anche per il pubblico quindi bene speriamo bene no io devo dire che sono stato molto contento della gara di domenica dei suggerimenti che mi ha dato e che ho trasmesso e sono ancora contento che ci siano tre gare da vedere perché se no poi entriamo nella fase grigia inventeremo un nuovo tipo di parlarci non so come ma ce lo inventeremo non c'è bisogno di inventare niente Antonio un'ultima considerazione da fonte tedesca è venuta fuori la notizia che la Ferrari e a Rimorchio anche la Renault avrebbero accettato il blocco dei motori all'inizio della stagione 2022 cioè dopo che è partita la stagione del cambiamento della Formula 1 io ho provato a fare un po' di verifiche e a me risulta che a Maranello l'idea di bloccare i motori non solo siano contrari ma proprio ci puntano i piedi mi stupisce che molta stampa anche nazionale non sia andata alla fonte a Maranello per chiedere se era vero e semplicemente hanno ripreso l'autorevolissima fonte tedesca automoto in sport però non è vero ma tu come l'avevi hai detto tutto tu quest'anno siamo stati abituati a vedere dei cambiamenti di pensiero di filosofia della Ferrari che ha ingoiato tantissimi rospi per accettare una stagione covid che comunque partisse e immaginare che se ne ingoi uno ancora più grande mi è molto strano tu come la vedi? per me è assolutamente irrazionale che che vengano posti certi limiti ci può stare ma se uno deve fare la formula 1 e non può facevano evolvere perfino il motore Ford Cosworth può che non devano far evolvere il motore di oggi cioè è normale che le cose migliorino perché migliorano le benzine migliorano gli oli migliorano i metalli i materiali e quindi insomma andiamo avanti andiamo avanti dai sono fake news ok amici motosport.com allora commentate qui sotto come fate sempre dopo ogni nostra chiacchierata anche questa volta mi sembra che ci siano validi argomenti per aprire la discussione mi raccomando civile senza insulti che ogni tanto partono e dobbiamo intervenire cliccate la solita campanella per iscrivervi ai canali di motosport.com così riceverete tutte le informazioni sui prossimi video che arriveranno Antonio appuntamento a sabato prossimo saremo in Bahrain per il terzultimo gran premio della stagione e si esce dalla dinamica europea quindi c'è un cambiamento importante beh siamo già stati in Turchia siamo là lì eravamo al Pest comunque non ti preoccupare per gli insulti tanto sono tutti indirizzati a me quindi tu non rischi niente no 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 ciao ciao a tutti ciao a tutti